Musica Dunque pagina sportiva che apriamo purtroppo con un motivo di dolore, lutto per il Varese Calcio in generale per la storia calcistica del territorio che perde una bandiera degli anni 60 specie i tempi d'oro del Varese tra il 66 e il 69. Si è spento infatti a 81 anni Lamberto Leonardi, aveva totalizzato 86 presenze in bianco rosso segnando 20 gol. Quello che avete visto e che vi stiamo riproponendo al ralenti era il momentaneo 2-0 del Varese di Bruno Arcari contro la Juventus, sconfitta 5-0 all'Ossola il 4 febbraio del 1968. In quell'occasione in campo trovavamo appunto il compianto Leonardi. A proposito invece, tornando ai giorni nostri, il Città di Varese oggi ha perso per 1-0 nella gara con l'Imperia. Concentriamoci adesso su un altro tipo di calcio, quello bianco-blu e quello che ha fatto storia perché siamo andati in visita al Museo della Propatria. Purtroppo, come hai detto tu, attualmente il museo è chiuso, quindi si sta occupando questo periodo per cercare di abbellirlo e per cercare di renderlo pronto e disponibile quando finalmente ci sarà una riapertura. Bene, quindi quali progetti anche per il futuro, in vista anche di una riapertura? Allora, più che progetti la speranza è di riuscire ad ampliare il museo, diciamo che a fianco del museo c'è un locale che potrebbe essere utile per ampliare il museo, quindi la speranza è proprio quella di riuscire ad avere uno spazio espositivo sempre maggiore. Bene, che cosa si auspica Matteo Tosi? Sentiamolo. Beh, come diceva Andrea, sarebbe importante poter riaprire il museo alle visite di tutti e in particolare del settore giovanile della Propatria, con cui stavamo già partendo circa un anno e mezzo fa con delle merende organizzate nel museo. Noi riteniamo che sia importante che i tigrottini conoscano la storia della maglia che vestono. Ci piacerebbe coinvolgere anche le ragazzine della Pink Stripes Busto, che è la prima squadra femminile di Busto, che ha già avuto dei rapporti con la Presidentessa e con la società. E poi l'idea, come diceva ancora Andrea, appunto è quella di allargare leggermente, diciamo quasi raddoppiare questo museo con un locale che la società si è data disponibile più o meno a farci ottenere. Mi sa che ci toccherà inventarci un'altra iniziativa per avere i fondi per sistemare anche questa parte e per abbellirla come da dovere. Da calcio all'Ippica trasferiamoci alle scuderie Olona in via Galdino a Varese, finalmente ultimata la copertura del Tondino che potrà dunque dare ulteriore agio e risalto all'attività Ippica da queste parti. L'età dell'oro è un ricordo ormai lontano per l'ippodromo alle Bettole, che negli anni Ottanta poteva vantare, nel suo ricco calendario estivo, una corsa di gruppo 3, il Criterium e una liste di qualità, il premio la novella. I tempi d'oro sono lontani anche per le scuderie Olona, vero cuore pulsante dell'impianto Ippico, ma almeno è stata ultimata la copertura del Tondino che si trova proprio al di fuori della struttura di via Galdino da Varese. A dare impulso ai necessari e tanto attesi lavori di ristrutturazione ci ha pensato Giovanni Borghi, figlio di Guido, presidente della Varesina e consigliere della società di corse. Credo come mio padre in questa struttura e credo, spero, voglio dire, con la mia energia diciamo di uomo ancora abbastanza giovane di poter ridare comunque sfarzo a questa struttura secondo me molto importante, molto apprezzata direi da tutti e soprattutto potrebbe essere un ambiente chiaramente che dà libertà comunque alle famiglie di poter seguire comunque il galoppo che è un bellissimo sport, una bellissima disciplina a portata di tutti. Ho trovato le scuderie comunque in uno stato sicuramente non propenso e negli ultimi due mesi credo che con soprattutto voglio dire l'arrivo di qualche soldo del Ministero di aver dato priorità alle cose fondamentali per il comfort comunque degli operatori che ci lavorano e che vivono quella struttura ogni giorno. La riunione invernale delle Bettole vivrà il suo ultimo appuntamento mercoledì 3 marzo e in tempi di vacche magre per la drastica riduzione dei monteprimi rendiamo merito a uno dei protagonisti assoluti della pista. Americanism si è dimostrato quasi sempre imbattibile sulla pista Varesina con ogni peso e contro ogni avversario e la puntata di Mondo Galoppo in onda alle 21.05 di venerdì 26 febbraio sarà dedicata alla proprietaria e all'allenatore di questo inossidabile sauro di 7 anni. Patrizia Testa, presidente della Propatre e Mario Esposito che avrà modo non solo di parlare della sua attività di trainer ma anche di ripercorrere le tappe più significative della sua esaltante carriera da fantino impreziosita da grandi vittorie come il derby italiano conquistato nel 2003 in sella al tedesco Osorio. Ed è tutto anche per lo sport, grazie, arrivederci. Grazie.